bello bellissimo e quanto tempo ci vuole quanto tempo ci vuole dipende a dipende ma c'è più o meno quando si sa più o meno più o meno dipende da un sacco di fattori da un sacco di fattori dipende da me perché sono anche io ma cioè quanto tempo ciao ciao però per sapere più o meno si potrebbe anche cominciare subito oppure ci bisogna preparare si dico l'avvenente signorina che ti uscia piacere catiuscia bellissimo nome catiuscia ma cosa la mina cosa la mina da queste parti allora non cominciamo subito con la solita solfa che vi conosco voi due lasciateci in pace che io e catiuscia stiamo lavorando e non abbiamo tempo da perdere lavorando te si guardi il verbo lavorare sta nella tua bocca come un cioccolatino a Roma sta in quella di un diabetico astello e invece ti sbagli alla grande caro Bruno perché io e catiuscia qui abbiamo in mente un progetto importantissimo e svolgiamo allora non so se riuscite ad immaginare ma provate ad immaginare un enorme carpa di tutti i colori screziata argentina rossa verde blu con tutti questi luccichi e che con i suoi giunchi dorati e sassi morbidamente umidi e rotondeggiante armonia l'iridescente squamosa realtà ittica del maestoso animale verrà esaltato io mi sono fermato a carpa poi non ho capito quindi un attimo allora catiuscia è una pittrice è un ascoltrice è una pescatrice è una pescatrice la carpa cosa pesca cosa pesca basta basta altro che pescatrice catiuscia è un'artista del lago ah pesca di lago beh elettrote chi lucci è pesci gatto siluri basta ma che siluri è siluri ho detto del lago non del lago catiuscia è una tatuatrice è la mia tatuatrice ma come la tua tatuatrice che te tatuaggi non ce ne hai anzi hai sempre detto che ti fa ribrezza tatuatrice sua acqua passata ma soltanto i cretini non cambiano mai idea infatti io lo dico sempre lui non cambia mai idea sappiamo tutti lui non cambia idea ma vedete l'idea del tatuaggio non è solo un'idea è più un impulso un istinto un diktat è un vero e proprio richiamo all'ancestrale privale alla potropaicità la potropaicità e io infatti mi sono sentito richiamato e ho deciso ho deciso che catiuscia mi tatuerà un'enorme carpa che partirà da qui dal petto e poi s'avvendirà il busto fin qua dietro ad avvolgermi tutto fin qui al codruzzo codruzzo? al codruzzo dove rimane il codruzzo per sapere? sarà una total body corporeal decoration oppala hai capito? no ma mi fido sì l'opera coinvolgerà tutti i sensi andrà a toccare i meridiani i paralleli lo zenith il nadir e anche l'azimur hai capito? no ma mi fido certo Roberto sì tu diventerai un'opera d'arte sì come me vivo qua ma non è meraviglioso ragazzi ma questo sulla tua schiena sembra un manifesto pubblicitario sì sì di quelli che hanno preso l'acqua Roberto sarà meravigliosa straordinaria la regina delle carpe coi Roberto la tua carpa la mia carpa si toverà melliflua e sua dente sul tuo corpo e io ti tatuerò anche schizzina schizzina e petali di fiori di ciliegio e di lotto molto lotto soprattutto lotto lotto sì e le sue squame e i suoi colori iridescenti valorizzeranno la tua fisicità la mia fisicità ragazzi dandole un nuovo significato sì un senso nuovo molto molto tutto sì senti lo sai che cosa significa la carpe coi nella simbologia nipponica? sentiamo dai dai cioè al momento ti sfugge ma lo sapevo cioè nipponica ma significa virilità virilità determinazione forza e potenza maschia ma potenza maschia che però con Roberto c'entrano come una spatolata di marmellata sulle lasagne eh no 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 caro Bruno io la sento tutta sta potenza maschia ecco caccia scusi la potenza maschia lei ha spiegato la potenza maschia come si fa il tatuaggio no per sapere poi siete arrivati voi due sentiamo 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 è molto semplice sicaccia sicaccia per prima cosa ti depilerò completamente Gabro si si Gabro Gabro completo completo come un pollo pelato in secondo luogo ti spalmerò tutto il corpo con della vaselina la vaselina la vaselina occhio perché quando arriva la vaselina è un attimo con la vaselina ma è un attimo cosa ti distraie e poi poi attraverso i miei anghi nonno io ti pungerò ti pungerò ti inietterò delle piccolissime goccioline d'inchiostro sui primi stati dell'epidermide stando ben attenta a non raggiungere il tessuto connettivo molto ricco di vasi sanguigni sanguigni praticamente sanguigni si e allora io attraverso i miei aghi continuavo a punger ma 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 pungerò ma 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 se ancora 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 senza anestesia senza anestesia eh beh mica ti sta facendo un'otturazione anestesia il primo minuto sarà molto dur potresti svenire si un ictus con l'asso peso caldo di questione caldo di questione capita mi sta già venendo arresti cardiaci ma poi passa poi quando sarai assuefatto al dolore assuefatto e ti lascerai andare sarà troppo tardi troppo tardi ce lo siamo già persi allora il rito sarà compiuto compiuto e raggiungerai il nirvolo mica il gruppo in ogni gruppo in ogni gruppo in ogni gruppo in ogni gruppo ecco sei contento? si 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 sono contento la prima seduta durerà circa 4-5 ore dipende insomma dalla tua 4-5 ore perfetto allora quando puoi? martedì venerdì di che anno no? si di che anno è simpatico fare le battute sei troppo forte robbi sei troppo forte robbi devo guardare un attimo l'agenda perché sono un po' occupativo ultimamente robbi consulta l'agenda allora a martedì ho un impegno in prorogazione dunque mercoledì ho karate poi parto per l'antartide in solitario sto via un bel po' pensi di tornare fra due no meglio tre anni ecco fra tre anni va benissimo a quest'ora qua va bene anche primo pomeriggio ma che poi voglio dire si può poi anche far senza il tatuaggio eh che voglio dire la vita i suoi segni te li lascia addosso no? tipo per dire io qui sul polso c'ho una voglia sì di mortadella